Chi invita Messinese a governare la città nonostante il terremoto che si è verificato in Casa 5 Stelle dimostra di non avere a cuore le sorti di Gela. Come dovrebbe il sindaco messinese a giudizio di queste anime candide affrontare e risolvere i drammatici problemi che stanno facendo sprofondare il nostro territorio verso un barator da cui sarà forse impossibile uscire? Lo ha scritto in una nota il leader di un'altra Gela, l'avvocato Lucio Greco. Certo, un sindaco così debole, per giunta sconfessato e scomunicato dallo stesso movimento che lo ha proposto può far comodo a tutti. Privato della corazza del movimento di cui faceva parte, leggiamo ancora nel documento, e senza più poter beneficiare delle garanzie dei vertici regionali e nazionali dei 5 Stelle, quel sindaco che dovrebbe governare la città si è ridotto ad una sorta di fantoccio impossibilitato a prendere qualsiasi decisione autonoma in linea con quanto proclamato durante la campagna elettorale. Può se vuole rimanere, ma ad una condizione sconfessi se stesso tutto il suo recente passato e ubbidisca tutti gli ordini che i furbetti del paese sono pronte ad impartirgli. Non si comprendono però le ragioni che lo hanno spinta a presentare ricorso contro l'espulsione dal movimento 5 Stelle. Perché delle due l'una, continua Lucio Greco, o è un sindaco rappresentante delle 5 Stelle, per coerenza quindi dovrebbe rifiutare l'appoggio di chi fino a ieri era nei suoi avversari politici da abbattere, oppure un furbastolo della peggiore specie che ha già stretti accordi sotto banco con chi ha affossato la nostra città. Dalle scelte future capiremo quale delle due posizioni risulterà essere vera. Per intenderci e per essere chiari, se in caso di esito negativo del ricorso si dimette, siamo di fronte ad un galantuomo degno di rispetto. Se invece, nonostante la conferma dell'espulsione, rimane incollato alla poltrona, disponibile a fare accordi a destra e a manca con chi che sia, siamo di fronte ad un avventuriero senza scrupoli, Un nemico della città è un qualunquisto opportunista che va bloccato politicamente al più presto possibile senza ricorrere alle fantasiose e sofisticate gattopardesche analisi di qualche rappresentante della nostra povera politica gelese, conclude Lucio Greco di Un'altra Gela.